Il razzismo è una brutta storia Il razzismo è una brutta storia Dunque per l'editore Carlo Fertinelli che pubblica i libri Frodo di Alimberti Il razzismo è una brutta storia Ora giusto a qualche nota così Perché i genetisti da decenni ormai hanno detto che esiste solo una razza umana Solo una C'è la differenza di tratti morfologici, color della pelle, eccetera E' dovuto ad adattamenti ambientali Per cui gli africani sono di pelle nere Perché? Perché ovviamente il sole è coccente Lì ha sviluppato molto a melalina Infatti uno quando va al mare cosa fa? Si abbronza, sta al sole e produce melalina La pelle diventa scura, sempre più scura Perché per resistere poi ai raggi solari, eccetera Quindi è una questione di adattamento ambientale In Africa è successo così Tra l'altro poi secondo queste teorie diffusioniste Noi saremo tutti venuti dal corno d'Africa E poi si è diffuso gli ominidi, eccetera Homo sapiens, eccetera, eccetera Per tutto il globo Quindi anche gli europei venivano dall'Africa Erano neri in aborigine E poi la pelle si è sbiancata Perché? Perché l'ambiente europeo, il nord europeo, il freddo, eccetera Andavano coperti E quindi non c'era questo solo coccente E pian piano con i millenni la pelle si è sbiancata È diventata bianca Succede poi, giusto una nota, che qualche zodicone bianco Zodicone bianco, un ignorante Si crede magari superiore a uno nero Che magari uno scienziato, un dottore Lo stesso che magari, qualora si ammalasse Lo zodicone bianco, potrebbe curarlo Invece no, lui lo reputa, lo zodicone bianco Reputa lo scienziato nero, uno inferiore Ecco, noi siamo a questi livelli qui Non ragioniamo più secondo la qualità delle persone C'è il valore delle persone, la dignità delle persone Ragioniamo per apparenze E che succede anche qui, per quanto riguarda Calimberti Di questo impostore Che truffa, froda la gente Li prende per i fondelli, li insulta, l'ingiuria E però è un'apparenza La gente guarda l'apparenza C'è il fatto che questo signore qua Come immagine è propagandato Come un grande intelletto Come diceva, abbiamo già detto, documentato O a Trepanzane, un grande filosofo Di fama internazionale, eccetera Addirittura viene definita, poi lo diremo, questa questione Uno dei più influenti filosofi contemporanei Che sarò detto a Lucca l'anno scorso E su questa questione ci torneremo Quindi, in effetti, il concetto di apparenza Cioè, qual è la sostanza? Ecco, questo è il punto In questa fattispecie che noi stiamo indagando Andiamo a toccare la sostanza delle cose E dimostriamo che Calimberti in sostanza È un truffatore, un impoglione, è uno psicopatico Una persona che froda la gente La gira, li prende per i fondelli Ma perché va ancora in giro? Perché questi suoi libri frode Ha affrontato un sacco di soldi E perché l'editore è ricattato, come dice lui, no? Lui dice, i giovani non hanno la forza del ricatto Lui invece ce l'ha Perché per tanti anni ha smerciato questi libri frode Si è scoperto che è un truffatore Ma l'editore cosa fa? Dovrebbe sbossare un sacco di soldi Qualora fosse denunciato Perché in quarant'anni a Calimberti hanno rubato un sacco di Centinaia di autori Quindi sarebbe da rifondere come danni Magari decine e decine di milioni di euro Per cui c'è tutta questa questione Di tenerlo a bada Questa informazione Di censurare Questa informazione che dice Che Calimberti è un truffatore Che è un placiatore seriale, eccetera, eccetera Quindi l'editore è sottoricato, possiamo dire Però parimente è complice Perché potrebbe anche slegarsi da questo ricatto E svingolarsi da questo impostore Invece no Fa piuttosto il contrario Continua a foraggiare questo impostore A mandarlo in giro A farlo sponsorizzare come un grande filosofo Di fama internazionale Un grande pensatore E censura Censura la stampa Fa se che venga imbavagliato E non diffonda la notizia Sulle frode di un impostore di Calimberti Quindi la questione del razzismo Diciamo Ormai Esiste solo una razza umana Ci sono poi dei caratteri Tratti morfologi differenti Colore della pelle, eccetera E ciò che Bisognerebbe parlare Di discriminazione etnica Non di razzismo Ma discriminazione etnica Non di razzismo Tra l'altro poi anche Uno potrebbe dire Ma come nella nostra Costituzione Articolo 3 C'è la parola C'è la parola razza Sì, vabbè Ma quella fu messa a loro nel 48 Anche per contrastare In contrasto a quelle che Dici anni prima Furono le leggi razziali Che furono a causa Di crimini orrenti Di altri infami, eccetera Questo libro L'etica del viandante È una colossale frode Per quanto riguarda il razzismo All'interno C'è il logo C'è il logo Il razzismo è una brutta storia L'editore Feltrinelli Carlo Feltrinelli Ha promosso questa campagna Mi parlo nel 2008 Difondendo questa Facendo conferenze, eccetera Con scrittori Ad altre persone studiose, eccetera Sulla questione del razzismo È una brutta storia E ha creato questo logo Che viene impresso In tutti i libri Che sono stati pubblicati dopo Dopo l'inizio di questa Campagna Che il razzismo è una brutta storia E quindi anche su questo libro C'è di Galimberti Questa frode di Galimberti C'è il razzismo è una brutta storia Mentre una storiaccia Non brutta ma infame È pubblicare questi libri Di Galimberti Questa sì è una storiaccia infame Perché sono delle truffe Truffe Frodi Congeniate a tavolino Congeniate a tavolino E poi vengono diffuse Attraverso questa campagna Diciamo di Mass Media Di questi parenti complici Di questo impostore Di questo corrotto Filosofo Galimberti Questo libro qua È una frode Perché in gran parte Centinaia e centinaia di pagine Sono state praticamente Prese in questo libro qua Psichetecne E cosa ha fatto Questo impostore Galimberti Ha preso Gli stessi capitoli E ci ha cambiato In alcune parti Delle parole Parolette Delle frasi Facendolo Spacciandolo per qualcosa di nuovo Un nuovo pensamento Ma non solo Ha copiato qui Ma c'è anche cose plagiate Ma anche Da terra senza immare Anche lì c'è roba Presa da lì E messa qui E anche Ci sono parecchie Molta roba plagiata Già Nella terra senza il male Gli stessi plagi Sono stati messi anche qua Sono stati plagiati Tanti altri autori E questo libro Praticamente È una colossale frode Perché? Perché tutta roba Già pubblicata In precedenza E manipolata E poi sono state aggiungere Dei plagi Il 10% Sono cose Diciamo nuove Tra virgolette Ma sono cose plagiate Da altri libri E in particolare C'è da menzionare Questo libro La terra del tramondo Del padre Escolobio Ernesto Balducci Praticamente Galimberta Ha scopiazzato tutto qui Non solo ha copiato Ha plagiato Ma anche le idee Ma anche le idee che lui Va dicendo Sull'edica del viandante L'edica cosmopolita C'è il fatto Del San Francesco L'acqua La sorella acqua Eccetera Sono tutte cose Copiate qua Sono tutte cose Prese da qui L'uomo nuovo Eccetera Eccetera E sono tutte cose Copiate da qua Ma l'abbiamo documentato In questo saggio L'abbiamo scritto In questi mesi L'edica della frode Che abbiamo pubblicato Come ebook Lì c'è scritto Tutte le frode Che Galimberta Ha consegnato Per fabbricare Questo libro L'edica del viandante E anche le cose Che ha preso Da padre Balducci Eccetera Questo libro È una frode Ma cosa succede? Ogni volta Che Galimberta Combina Combina una frode A tavolino Questi libri frode Ma cosa succede? Si mette in moda La sua parentela E comincia A pubblicizzarlo A portarlo in televisione O in tutti questi I vari festival Di letteratura Eccetera Di filosofia E di cose varie Insomma A noi comincia a girare A pubblicizzare questo libro Ma non solo Poi alla fine cosa fa? C'è il banchetto Il banchetto Quel film a copia E cosa fa? Lui Filma questi libri E li vende ovviamente Ebbene Questi anche altri Anche altri libri frode Praticamente Lui cosa fa? Filma questi libri E ti dice Come se dicesse La frode servita E te la dà Tu paghi? Perché questo libro qua Costa Costa praticamente 22 euro Questo libro qua Immaginiamo quanto Quando è a barca di soldi Fa questo signore Costi a frode Lui è il suo editore Che li pubblica Tra l'altro questo libro E' curiosa sta cosa E' dedicato a Carlo Feltrinelli Cioè l'editore Che pubblica le frode Di questo impostore Di questo filosofo Corrotto Garimberti E dice Per la nostra antica E profonda amicizia Ma Come diceva Il Papa Francesco Lo recitiamo ancora In questo libretto Guardia dalla corruzione Il corrotto Non conosce La fraternità O l'amicizia Ma la complicità Quindi qui non parliamo Di amicizia Profonda amicizia Ma parliamo piuttosto Di profonda complicità Perché Garimberti Fabrica queste frode Questi libri frode E l'editore 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 Feltrinelli Gli vende Gli smercia Gli mette in ciclo Lo sponsorizza Tramite tv Eccetera Festival E altri complici Che stanno Organizzano Queste manifestazioni Culturali Eccetera Si diceva dunque Che dopo aver Fabbricato queste frode Libri frode E Garimberti Cosa va Cominciano ad andare in giro E un anno scorso Questo libro Frode Uscito a settembre 2023 Dopodiché Garimberti Ha cominciato a girare E è andato anche Al Festival Letteratore di Mandova Che adesso Diciamo qualche cosino Su questo Su questo intervento Di Garimberti Lì Al Festival Letteratore di Mandova Applausi 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 Scroscianti Pubblico pagante 6,50 euro Per accedere Per sentire le panzane Per sorbire La solita Broda Che scodella Questo impostore Pagò 6,50 euro Ma In altri contesti Addirittura Si parla di 42 euro 25 euro In questa tournée Che lui sta facendo Nei teatri italiani L'etica del viandante Scodellando Sembra la stessa broda E vendendo i libri E la gente Deva lì a pagare 42 euro 28 euro 35 25 22 C'è roba da pazza In questo paese Comunque Lui a Mandova Disse Esordi Dicendo Dunque L'etica del viandante L'etica del viandante È un'etica alternativa A quella che noi abbiamo Dunque L'etica del viandante L'etica del viandante È un'etica alternativa A quella che noi abbiamo Dunque L'etica del viandante L'etica del viandante È un'etica alternativa A quella che noi abbiamo Dunque Lui ha scritto questo libro Per proporre Agli italiani Un'etica alternativa Non solo gli italiani insomma, Urbetto orbi una etica alternativa a quelle tradizionali, perché secondo lui nell'età della tecnica non funzionano più, quindi ci vuole la sua etica del piantante, cioè di questa impostura, cioè lui propone un'etica dell'impostura, della truffa, della frode, che funzioni in questa età della tecnica. Forse sarà così, perché noi siamo subissati da notizie di scandali, ruberie, frodi, corrottele, eccetera. Forse la sua etica funziona. In questi contesti, almeno infatti così pare che è intino, ma chi lo sa. Tuttavia lui andò lì e dicendo, ecco, io mi presento qui e vi propongo, vi porto qui un'etica alternativa che sarebbe l'etica del piantante, questa colossale frode di cui abbiamo detto, ma la cosa interessante da rimarcare, ovviamente lui scodello la solida broda, tante cose copiate, scopiazzate, le giucchiate nel libro di padre Ernesto Balducci, La terra del tramonto, abbiamo già citato prima, ma e quindi, altra della solida broda, chiesco della soledà della tecnica, eccetera, eccetera. E alla fine, ciò che dice lui è veramente una cosa sconcia e abietta. Perché oltre all'evoluzione biologica non si può fare un'evoluzione culturale. E quando dico evoluzione culturale mi cascano le braccia, perché il livello di ignoranza a cui siamo raggiunti, soprattutto in Italia, fa letteralmente paura. E io sono anche stufo di fare conferenze, perché poi la gente finisce per capire solamente il 10% di quello che dico. È spaventoso il livello culturale, non pensate che una società abbia futuro sulla vagia dell'ignoranza. Non pensate a queste cose. E poi non solo siamo ignoranti, ma ci vantiamo anche, c'è gente che si vanta di essere ignorante. Dunque, Gallimberti disse che era desolato, mi cascava le braccia, ero stacco di questi ignoranti italiani a cui lui andava lì, insomma, a predicare la sua conoscenza, ma, insomma, era, come dire, poco compreso. Tra l'altro poi, quando lui disse che mi cascava le braccia di danza questa ignoranza degli italiani, la gente applaudì, il pubblico applaudì, scroscianti, applaudi scroscianti. Ma Gallimberti disse che gli italiani sono ignoranti, e quelli che stavano di fronte lì erano tutti italiani, quindi insultava anche loro, e però lo applaudivano. Applaudivano, forse era un applauso di consenso, per dire sì, gli altri sono ignoranti, come dici tu, Gallimberti, ma noi che siamo qua con te non siamo ignoranti. Questa è un'altra stranezza, anche lui insulta la gente, la gente li applaude anche, li ingiuria e la gente gli batte le mani. È una stranezza allucinante, ma, ovviamente, cosa possiamo dire? Prendiamo ancora due chicche di questo cialtrone, di questo farabusto, filosofo corrotto, perché lui insulta gli altri, li chiama ignoranti, ma il primo garante è lui. Ovviamente abbiamo già documentato che Gallimberti fa strazio, ha fatto strazio del simbolo di Platone, di Liede e di Porè e tante altre cose, dicendo un sacco anche di cerebellotiche di filosofia, come dico io, no? E le diceva queste cose anche quando stava ancora in cattore a Caffoscari. Cioè lui era un docente a Caffoscari ordinario, ordinario, ovviamente me l'aveva già detto che anche l'ordinarietà che ha preso lui l'ha presa come frodo allo Stato, contro legge, eccetera, perché portò al concorso i libri di taroccati. Però lui stava lì in cattore a Caffoscari e andava in giro dicendo asinerie, ragliando, queste un sacco di cose, storpiando il simbolo di Platone, come ho già detto, e tante altre asinerie. E lui anche allora, in seguito, e quindi anche a Mando, disse che gli italiani sono ignoranti, l'incultura a cui lui gli tocca, come dire, verificare, toccare con mano, lo scandalizza, gli fa cascare le braccia, eccetera, eccetera. Allora vediamo due chicche della sua sapienza, della sua sapienza ragliante. Non so se lei, dice Heidegger, l'intervistatore, il direttore di Der Spiegel, non so se lei è stato impressionato dal fatto che l'uomo sia arrivato sulla luna. Io, dice Heidegger, sono stato molto impressionato. Lo diceva nel 1966. Ora di questa intervista di Heidegger al direttore di Der Spiegel, lui la racconta, la racconta un sacco di volte, e dice sempre le stesse asinerie. Lui cosa dice? Dice che secondo Heidegger gli chiese a questo direttore di Der Spiegel, ma lei non è rimasto impressionato quando gli uomini sono andati sulla luna, eccetera? E poi dice, no? Io sì, dice Heidegger, io sono rimasto impressionato nel vedere gli uomini sbarcare sulla luna. Poi, in effetti, cosa dice? Alla fine, Gallimbert dice, questo lo dice nel 1966. Di fatto l'intervista è del 1966, però gli uomini, gli astronavi, sono andati sulla luna nel 1969. È una cosa che sanno anche i bambini. L'uomo è sbarcato sulla luna nel 1969. Quindi Heidegger non poteva dire nel 1966 che è rimasto impressionato e gli uomini sono arrivati sulla luna. Perché è falso? Perché non era ancora successo? Quindi Gallimbert dice delle panzane. Cioè, lui è un ignorante, perché raglia, dice delle cose panzane, mette in bocca Heidegger delle cose che lui non ha mai detto. Perché Heidegger parla delle fotografie della terra scattata dalla luna, cioè da un satellite, eccetera. Quindi lui non dice che gli uomini sono sbarcati sulla luna nel 1966. Sono panzane ragliate che invece le diffonde Calimberti. E a Mandovano è già, forse, tante altre volte l'aveva già detto in precedenza. E questa è una signeria. Di questo ignorante. Questo ignorante in precedenza ha detto queste cose, ha ragliato queste panzane su Heidegger, mettono in bocca ad Heidegger le sue panzane, la sua ignoranza e poi alla fine insulta gli italiani. Quando dico evoluzione culturale mi cascano le braccia. Perché il livello di ignoranza a cui siamo raggiunti, soprattutto in Italia, fa letteralmente paura. Cioè, mi cascano le braccia di fronte a questa ignoranza, a questa incultura. Quando lui dà un esempio di incultura e di ignoranza, prima lui, no? Però siccome Calimberti è uno psicopatico, e quindi è una persona morale, non ha già senso di colpa, è sfrontato, ecco, dice queste cose. Lui è un ignorante, però cosa gli altri devono essere ignoranti? Che ovviamente in psicanalisi sarebbero che una proiezione, insomma, comunque. Passiamo alla seconda chicca e vediamo cosa dice. E allora se a Brescia, che è nel Bresciano, dove noi italiani facciamo le mine antiuomo più efficaci nel mondo, se l'operaio su 100 che ne fa, 99, funzionano? È un bravo operaio. Se ne funzionano solo 50, non è un bravo operaio. Allora cos'è il bene e il male? Non è più in ciò che fai, ma come lo fai? Anche questa storiella delle mine antiuomo che si fanno nel Bresciano, Calimberti la ripetono da un sacco d'anni. Ma è una panzana anche questa, di questo ignorante, questo cociuto asino, no? Che ripete sempre le stesse cose, cioè le stesse panzane, ma sempre ragliando le stesse asinerie, no? Perché è risaputo, cioè anche su Wikipedia, qualsiasi persona può accedere, che le mine antiuomo non si fanno più in Italia dal 1997, c'è una legge che ha proibito la fabbricazione di mine antiuomo in Italia, ma dopo che in precedenza è stata una rivolta anche degli operai stessi, no? Che si rifiutavano, hanno fatto una battaglia degli stessi operai, di fare una conversione, di conversione della fabbrica per non fabbricare più armi, mini antiuomo, eccetera, alla Valsella, famosa Valsella, eccetera. Però Calimberti dice ancora, e quindi dal 1997, sono quasi 27 anni, che non si fanno più mine antiuomo in Italia, e questo ciarlatano, questo miserabile farabutto, va ancora dicendo che in Italia si fanno le mine antiuomo, e anzi, addirittura noi italiani siamo più bravi a fare le mine antiuomo, perché dice lui, nell'età della tecnica, un operaio deve fare le mine antiuomo che funziona al 99%, che saltano, cioè ammazzano la gente, dice saltano, funzionano, ma tutta questa ipocrisia di questo ciarlatano. Ora, lui dice ancora questa questione dei mini antiuomo, quando anche su Wikipedia, cioè è diffusa questa notizia, che dei mini antiuomo in Italia non se ne fabbricano più. E lui va a Mantua nel 2023, settembre 2023, a ciarlare ancora di queste mini antiuomo in Italia, che noi siamo i più bravi a farle, quando in Italia dei mini antiuomo non se ne fanno più da 27 anni, c'è una legge che le proibisce, le proibisce la fabbricazione, e però questo ciarlatano va ancora a dire alla gente che in Italia si fabbricano mini antiuomo, e dà poi dell'ignorante a questa gente. E quando dico evoluzione culturale mi cascano le braccia, perché il livello di ignoranza a cui siamo raggiunti, soprattutto in Italia, fa letteralmente paura. Non solo al pubblico li presenta, ma anche agli italiani, dicono che sono incolti, ignoranti, e a lui gli caspano le braccia, dinanzi a questa incultura, dinanzi a questa ignoranza, mentre lui è il primo ignorante. Però, ripetiamo, è uno psicopatico, una persona senza di colpa, rimorso, eccetera, eccetera, per cui non ha risonanza emotiva del male che combie, e quindi, anzi, ne risente in modo benefico. Tuttavia, giusto per chiudere questa questione, l'editore Carlo Feltinelli, che dice là in Razzismo è una brutta storia, Il 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 razzismo è una brutta storia. Pubblicizza e porta in giro questo impostore Garimberti, pubblico e libero di questo impostore, tra cui l'ultima frode, l'editore Garimberti, che è dedicata proprio a lui, all'editore Carlo Feltinelli, per l'antica amicizia, non per l'antica complicità, ma per l'antica amicizia, che è un'altra impostura, perché possiamo dire, a ragione veduta e con fondatezza dei fatti, che tra loro c'è una complicità, tra il ladrone, il truffatore, il plagiatore seriale che confeziona libri, rubando, rapinando le opere altrui, e l'editore che le smercia al pubblico, le pubblicizza, le sponsorizza, e lo manda in giro per i vari festival di qua di là, col banchetto di questi libri frode, per cui alla fine Garimberti cosa va a fare? Il film a copie, e quindi li vende e truffa la gente. Ora, giusto una nota, di questa questione riprenderemo a settembre, altri complici, veramente, di persone che uno neanche sospetta, che sono complici di Garimberti, di questo impostore, perché intanto mi devo occupare di voxologia, perché io sono uno studioso di voxologia, studio della potenza fonopoietica della voce, ho già composto parecchie opere con la tecnica voxologica, eccetera, quindi mi devo occupare di questi studi, questi mesi, poi a settembre riprendiamo questi studi. Intanto uno può leggersi questo libro, L'etica della frode, che ho pubblicato un mese fa, per rendersi conto dello stato, del degrado in cui siamo combinati, la macerie culturale, perché in questo libro, L'etica della frode, si parla anche di Regalcati, Massimo Regalcati, che dice un sacco di panzane, perché non sa l'accidente sulla creazione, sulla creazione artistica, non sa l'accidente, dice un sacco di panzane, parliamo anche di Barbero, che anche lui sa delle cose di San Francesco, eccetera, eccetera, e di Stefano Mancuso, questo scienziato, che però anche lui dice un sacco di panzane, in modo un po', come dire, con un certo pressapochismo, parla di cose di cui non ha conoscenza, oppure non si è informato, ne parla, come se lo sapesse, accusando la gente di non fare l'evoluzione, perché sulla questione del malaria, dell'aria cattiva, eccetera, eccetera, nella Valpadania, eccetera. Ci sono tutte queste cose qua e tante altre cose in questo libro, che abbiamo pubblicato, non solo di Garimberti, le sue panzane, eccetera, ma ci sono anche quasi personaggi, perché in gran parte riguarda il festival, il pianeta Terra Festival, che si è svolto a Lucca l'anno scorso, ottobre, in cui c'è Garimberti, lì fu chiamato Garimberti da l'editore La Terza, nonostante l'editore La Terza sapesse che Garimberti gli ha saccheggiato un bel po' di libri, era stato informato due anni prima dal sottoscritto, e tuttavia, nonostante Garimberti avesse saccheggiato l'editore La Terza, invece di denunciarlo, l'editore La Terza lo premiò, portandolo a Lucca l'anno scorso, ottobre 2023, facendogli fare un alexio in cui presentò questo elgradiantante, e quindi soffrodando la gente anche lì, ma di cui diremo queste cose a settembre. Buon'estate. Buon'estate. Buon'estate.